Allora, siamo qua con Amaterasu, Vlad & Wine, e abbiamo appena scaricato il DLC. Qua dice Gli Amici del Vino. Allora, qua dice Cerca un nuovo contratto sulle baccheche del Velen. Io prima ho guardato, e qua appello a Sir Geralt di Rivia, perché è diventato cavaliere durante la seconda guerra contro Nilfgaard, dal ponte sullo stemma, agli ordini della signora graziosa sovrana, della nostra graziosa sovrana, sua grazia Anna Henrietta, praticamente devi andare a Toussaint. Incontra i cavalieri di Toussaint a Holloway, e Holloway, io sto giocando per la prima volta adesso, Holloway, coloni, tagliapietre, ok, opposto. Non ho bisogno di vostra scelta! Non hai freddo, buon ragazzo! Il nostro lavoro sarà fatto rapidamente, i Prowlers di essere baniti per bene! Milton, guarda! Fuori! Nel freddo! Ho trovato il tuo messaggio sulla notizia, guarda, Palmarin? I told you, the griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peirac Perrin and Palmarin de Launville. Good to see you both. Been years. Good to see you both. Hey, a little bit more is. He comes with a Rosa's. He heard that was a pirate. Good to see you both. Good to see you both. Good to see you both. You are a fan of a firecraft man. Like the heroist. Maybe I should see you both. Very good to see you both. Right, right, yes, you better to see you both. per colettare il tributo. Milton e io li dissuatteremo. Siamo giocati a combattere l'injustice e l'oppressione, qualunque si trattano loro. Il problema non riguarda te, ovviamente, ma facciamo la gentilità di aspettare. Una volta che abbiamo trattato con questi maraudi, abbiamo un problema che dovremmo presentare a te. Certo, dovremmo andare a incontrare i banditti quando arrivano? L'hanno? Farmeron ha piaciuto prima di appellare a loro sensazione di decente. Ma ho spero che ci saranno a questo. Si, completamente. Ci dovremmo aiutare una possibilità di stare. Molto un'esercitato ha lasciato il passaggio di wrongdo, appunto di ascoltare le parole di ammigrazione. Non succede in questi luci. Se non succedono i miei reprimandamenti, noi almeno vediamo che abbiamo fatto tutto in modo di evitare la morte. Certo, naturalmente, mi aiuterò quando la retorica di Palmarine falle sui orecchi. Excelente. Abbiamo bisogno di aspettare per i roghi arrivare. Ah, quindi dobbiamo attenere l'arrivo dei furfanti. Senti? I tuoi banditti sono arrivati. Lasciamoci fuori per incontrirli. Io la voglio quella spana. Il dramma in questa scena. Ma sono quattro scappati di casa. Amici? E' la lascia karthai! Prendi! Essere spreguevoli! Già si presentano bene. Già con le armature abbiamo vinto. Non c'è storia. Ah, di tutta risposta lui. Ma c'è uno spio di legno, ma va bene. Vabbè, a quanto pare non voglio ascoltare che questo qua ti voglio sbrindellare. Ma c'è uno spio di legno. Sì, no, non mi piace. Hai chiesto He scusato Sottotitoli da loro vivere! Ti spaventavo che sarebbe così. Ti spaventavo tanto come hanno fatto i banditti ora. Scusate, non c'è fanfare e flore. Non sei in Toussaint. Ech, è vero cosa le persone chiamano. Nel nord nessun obiettivo non si trattava. È il momento di andare a casa. E dovremmo, mio amico. Vai, Geralt. È il momento di rendere il nostro messaggio. C'è una freccia? Sì! Stavo guardando anch'io. Prima non ce l'aveva. Cioè, praticamente te l'ha trapassato e adesso va a dire così. Cioè, praticamente te l'ha trapassato e adesso va a dire così. Siamo di deliver, Her Grace, messaggio della duchessi in full. Con la ceremonia di tutte le due. Per la tradizione... È sacro in Toussaint. Allora, bene. È di tutti i nefandi mali. È di tutti i nefandi mali. Allora, sì. Sì, ovviamente. Un'esperienza a due. 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 Quanto a due. Quanto a due. Quando la sua grazia era il secondo, lei dischargò a noi. Abbiamo Slenderman. Cotoro. Un'esperienza a due. Un'esperienza a due. L'esperienza non può essere trattata. La gente dice che si tratta di magia. Anche, due vittime non erano... ...e il comune di un turno si ritrova. Ehhh... Boh, accetta il lavoro. A volte penso a tutti gli contratti che ho mai preso da Sovereigns. Non posso nascere nulla dove sono venuto. Non puoi pensare a rifiutare. No. Solo mi sono riuscita a pensare. come la duchessa può a volte essere... ...mh... ...demandante. Quindi accettate il contratto? Eccellente! Dobbiamo ripetere a una volta. L'Elonk ha chiesto questa terra cercando per te. Ma il tempo è di essenza. Siamo pronti per andare. A presto. Ah! Allora post haste a Toussaint. A Toussaint! Allora quindi praticamente stiamo partendo per Toussaint. Che figo il cavallo! Vabbè stiamo partendo per Toussaint per uccidere una bestia dalle multiforme. ... ... ...